Il sindaco di Angri, Pasquale Mauri, non ha perso tempo. Dopo la denuncia di sversamenti di vernice rossa nel canale Sant'Ommaso, questa mattina ha inviato l'ennesima segnalazione all'Agenzia regionale per l'ambiente per chiedere un intervento immediato, non solo per verificare l'esatta entità del danno ambientale, ma anche per cercare di monitorare il corso d'acqua. Sollecitato dai contadini, che da anni convivono con una vera e propria bomba ecologica, il sindaco si dice pronto a qualsiasi iniziativa, anche se ha ammesso che l'amministrazione comunale non ha i mezzi per monitorare il canale, a parte la buona volontà dell'ufficio ambiente e della polizia municipale. Ma c'è anche il rischio esondazione. Il sindaco non nasconde la sua preoccupazione e non osa immaginare cosa accadrebbe se l'acqua avvelenata tracimasse ed inondasse terreni e case. Dunque lo scempio si è ripetuto. Questa volta a colorare le acque già inquinate del canale Sant'Ommaso è stata addirittura la vernice. Sono stati alcuni contadini ieri mattina ad allertare due guardie ambientali. In un primo momento si era pensato a sversamenti di prodotti alimentari, magari scarti di lavorazione del pomodoro, ma poi, da un'analisi più attenta, si è capito che qualcuno aveva gettato nel fiume un'ingente quantità di vernice. La primavera scorsa si verificò un episodio simile. Anche allora l'acqua da marrone divenne rossa perché qualcuno aveva scaricato prodotti di scarto della lavorazione di prodotti agroalimentari. C'è comunque una buona notizia. Il canale beneficerà delle opere di riqualificazione idraulica ed ambientale previste dal progetto Grande Sarno. Intanto, a pochi chilometri di distanza, per essere precisi a Nocera Superiore, questa mattina sono iniziati i lavori di pulizia del torrente Cavaiola, così come dalle foto che ci sono state inviate dai volontari del Comitato Cavaiola. Operai del Consorzio di Bonifica e del Genio Civile sono scesi nel letto del torrente per tagliare enormi cespugli di erbacce ed eliminare rifiuti di ogni genere, anche in vista delle possibili piogge che potrebbero ingrossare il corso d'acqua ostruito da diversi ostacoli.